Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi sono qui con un video su Advanced Warfare Purtroppo non sono riuscito a mettervi da webcam Purtroppo non ho il cellulare Ancora non mi è tornato Quindi probabilmente mi auguro che per la prossima puntata O almeno per la terza puntata Riesca ad avere la telecamera per Advanced Warfare Giustamente vorrete vedermi sclerare Comunque si ragazzi partiamo subito Io direi di trovare una bella partita Io mi stavo allenando su Def Match a squadre Non sto facendo grandi risultati purtroppo Sono ancora all'inizio Sono a livello 18 Sapete che ho fatto con i doppi punti abbastanza kill I miei ratti non saranno buonissimi Però penso che piano piano riuscirò a rialzarli Come al solito Sono a un ratio 1.70 Mi sa non mi ricordo bene Partiamo subito ragazzi Trova partita Def Match a squadre Eccoci ragazzi Siamo su Terra Che non gioco da un po' Non è una delle mape più freita Allora Andiamo subito Io vi dico soltanto che ho già trovato molti camper Purtroppo capita Purtroppo può capitare di È one È recigida Recigida Ok Ok ci sei tu Bam Vamos Ok Ok c'è uno Bam Due Ok È solo questione di imparare i movimenti È tre ragazzi Andiamo vai Quando sono online con voi Ovviamente mi gaso e gioco bene Sfidatevi Niente non muore Mamma mia ragazzi Uh Che cazzo era una granatu A granatu Andiamo Vamos Qui non vado nessuno Ok Qui sono morta i eti Non capisco cosa sia C'è un teschietto Oh Ecco Bello Mandiamo UAV Drone Ricognitore Drone Drone Ricognitore Perché ho fatto drone ricognitore ragazzi Vabbè Mi so che ci siamo Mi hanno già ucciso Grande Perfetto Così Ragazzi Quanto ho fatto Scusate Quanto ho fatto 4-1 Perfetto Così ragazzi Naturalmente non so Neanche fosse un drone Ricognitore sto qua Però vabbè Partiamo subito Con la seconda Eccoci ragazzi Siamo su Instinct Instinct Come cazzo si chiama Una mappa Per camper Io la chiamo Mappa per camper Perché qui la gente Si campera come un maiale E così Con coltellino ragazzi Allora Se non sbaglio Questa è il limite Mappa Ok Ci muoviamo qui E muori One Si occorre Alla riscossa E poi mi sciottano Come un Gesù Ok vedete Lì erano già fermi Come avete voluto notare Dalla Mossa E questi mi sciottano Come Gesù Come non detto Vedete Io non riesco a vederli Sti stronzi Sono fermi Sono fermi Sono immobili Non si muovono E questo è il loro modo Di giocare Perché loro Giocano così Adesso Sono fermi Così Guardate qui Guardate quello stronzo Fermo Io me ne vado Perché non ce la faccio Non riesco a gestirmeli Con troppi Dai Merda 3-3 Ragazzi Cazzo E vai a cagare Ma non andrei via Va Che mi stanno ammazzando E muori Coglione Col cazzo Cosa No Mi è inculato Cazzo Vabbè Ok Andiamo qui Mamma mia ragazzi No Mi ha fatto un super salto ex Uno scatto balordo Ehi Ah guarda Pensavo che mi volessi uccidere Ma questo Lasce così Milano Già è pronto A uccidermi Guardate Pronto Gli scattini Andiamo E dai Dai Minca Un anno Ok Silenzio totale Ragazzi Silenzio totale Dai Guardate ragazzi Immobile Guardate come gioca questo qua Cioè guardatelo Fermo Aspetta che passiamo noi avversari E poi ci ammazza Che bello giocare con ieri Divertimento puro Questi si che sono dei giocatori Mamma Anche perché Quando sono andato a comprarmi Call of Duty ragazzi Vi dico sono andato Che c'era un bambino Prima di me Di dieci Forse di dieci anni Esagerando E loro mi sciottano Vabbè Vabbè Vai via Da lì Che se no Mi fulminano Mamma Guarda guarda Mi sciottano sempre ragazzi Non so che arma abbiano Vabbè 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 Bello Me non è fottuto Mi stavo anche sciottando Vabbè Tranquo Vabbè Se mi metto così Ovvio che ci divertiamo di più Ragazzi L'avete visto anche voi Io Io purtroppo Io purtroppo Non so che dire Cioè Gli spari Non muoiono Loro ti sparano Ti uccidono Beh Fate voi conto Bambù Coglione Coglione Guarda 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 Non fa Non fa giocare Questi qua Questi sono Veramente Merdosi Questi sono I mobili Non so come giochino però veramente sono immobili e guarda che ne ho visto di peggio questa cosa è anche tranquillo cioè per modo di dire tranquillo niente già faccio sono mezzo morto mi ammazzano dovete sempre mirare qui dovete sempre essere pronti a sparare qua fermi visto ormai qui si stanno giocando in questo modo pensate un po' eccolo qui non è ricognitore una minchia siamo in vantaggio droni ricognitore in campo cos'era cos'era mamma mia ragazzi siamo mesi morti ma va bene così va bene così finisce qui la parita pezzi occorre finisce qui che cagata di partita però dai almeno un po' di punice li siamo fatti vabbè abbiamo capito se gioca così c'è veramente tantissimo lag questo devo ammetterlo c'è veramente troppo lag e boh non lo so anche se giriamo a 4 attack è una cazzata perché se avete visto molti colpi non arrivavano e questo mi dispiace mi dispiace perché il gioco sembra essere abbastanza carino ma se non mettono a posto queste piccole cose potrebbe rovinarsi ben presto molto presto anzi usciamo da questa lobby beh ragazzi spero che il primo episodio vi sia piaciuto purtroppo non vi ho potuto soddisfare con la video con la video con la mia faccina con la mia facecam su Call of Duty Advanced Warforce spero di portarvelo il prima possibile quindi da cura notte del tutto spero che il video vi sia piaciuto come al solito vi invito a scrivervi, commentare mettere mi piace se ovviamente lo avete apprezzato noi ci vediamo alla prossima quindi bella raga